Forum per la finanza sostenibile ha commissioniato ad Oxametrix una ricerca sul risparmiatore responsabile. È la prima ricerca che viene effettuata in Italia sui temi SRI da parte dei piccoli risparmiatori e quindi del mercato retail. Questa ricerca evidenzia una buona conoscenza dei prodotti SRI da parte di questo mercato. Circa il 23% dei risparmiatori italiani di età compresa tra i 30 e i 50 anni dichiarano di conoscere in dettaglio di cosa siano i prodotti e le tematiche SRI. Tuttavia il mercato che si dimostra da un lato aperto e pronto a recepire questo tipo di investimenti chiede anche una maggiore coerenza e comunicazione da parte delle reti intermediari finanziari. Infatti accanto ai concetti associati alle tematiche SRI emerge fortemente una richiesta di chiarezza e di migliore comunicazione da parte delle reti degli intermediari stesse. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!